114 anni di storia, auguri baricalcio, più di 100 anni vissuti tra gioie e dolori, tra soddisfazioni e delusioni, ma un compleanno è il giorno più felice dell'anno e per cui bisogna lasciar spazio solo alle cose belle. Ci hanno pensato gli organizzatori della mostra delle maglie del Bari, ben 114, proprio per onorare i calciatori più rappresentativi, ma anche gli allenatori e i presidenti con le gigantografie. Tra i protagonisti che hanno fatto brillare la vecchia stella del sud, l'indimenticato attaccante Igor Protti che dalla Toscana ha raggiunto la Sala Murà di Bari proprio per dare lustro all'evento. Ma è difficile, in quattro anni devo dire che abbiamo passato dei momenti e delle partite meravigliose con grandi soddisfazioni, altre delusioni, scegliere una partita più bella faccio fatica, ripeto già ho scelto la maglia della partita con l'Inter, mi costa fatica anche quello perché devo dire che sono legato a tutte le maglie di tutte le partite in cui ho giocato, però è una partita però preferisco non scegliere. L'unico altro colore con cui abbiamo giocato che era la terza maglia era una maglia blu, se no solitamente o era bianca o era rossa, la terza maglia invece era blu.